Ciao Mario, buongiorno ragazzi. Io ho successo da tutto il tempo di Pabllo, successo Ciano, Corrano e Bolle. I dati sbambiresti? No, io diciamo che per vedere insomma se è un fuoco di paglia questi gol, secondo me nel caso di Ciano e di Bolle se è un fuoco di paglia, forse un gol.